Il mio concerto, che si tiene a gloria, a cura del tramamundo, che in un certo modo è integrato con un gruppo di ecoinformazioni. Siccome il Genangri non ha limiti, un altro concerto nacque, che si chiamava Le donne cancellate, dalle immagini di Gilles sull'archivio dell'ospedale psichiatrico di San Martino. Quindi Gilles già da ora sa che qualunque cosa, un fotografo, poi diventa un concerto.